good morning si in effetti qui sono le 11 8 come dico in questi casi anche oggettivo certo non proprio mattina prestissimo ovunque mattina mister master maestro o semplicemente semplicemente david lynch it's february 19 2022 and it's saturday in naples 60 and eight fahrenheit around 16 celsius this means that non è quella giornata veramente 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 fredda come in questi giorni in questo periodo si sembra più una giornata primaverile del resto ci avviamo ormai a marzo da una decina di giorni insomma verso la primavera bene meglio così ma comunque invito sempre a vedere il mio video sul freddo che ho fatto a dicembre per capire quali sono le due pratiche che utilizzo per cercare non di vincerlo il freddo perché è impossibile ma quantomeno di combatterlo sì per quanto riguarda il video sui pensieri come sempre da quest'anno inizio anno nel caso interessa credo lo faccio sempre separato da questo anyway i suggest to see from the window this afternoon i think that it will be going up to i sessi gradi di adesso se non anche qualcuno in più but the important thing with this atmosphere as you notice as you will notice is that surely we are going to be enjoying those beautiful blue skies and golden sunshine and i think all along the way ovviamente qui all along the way altre 3 4 ore 4 5 ore massima che va alle 5 ovviamente fa sera ma veramente bene così che dire in questi casi a meno che le cose che non cambino clamorosamente ma non penso nel caso voglio aggiungere saya dice bene this from the mythical window with the colored curtain sublime oggi nulla da dire and it's and it's green 呢 pareti su mio eto insomma da met Claudio è il Armada digx 640 ipg ipg 625 have a great day in all the people who follow the channel and the reports si un saluto veramente a tutti so again have a great day in all these people and everyone too you